È la prima di una serie di leggi economiche che riguardano le imprese ed è quella che ha un contenuto ad altamente innovativo. Abbiamo voluto fare per primo questa legge perché tra le varie emergenze economiche quella della fuga dei talenti del nostro territorio è la più grave. E quindi se vogliamo trattenere i migliori giovani laureati con delle idee, con delle invenzioni, con del talento appunto da esprimere, sicuramente le start-up rappresentano il terreno più fertile con cui misurarsi per nuove idee imprenditoriali oppure nuove innovazioni che possono essere introdotte nel business. Quindi riteniamo che questa legge e quindi questo bando poi potranno entrare a pieno diritto nella programmazione europea. In questa fase abbiamo fatto velocemente l'apertura perché intanto sentivamo l'esigenza da parte di molti giovani che volevano tentare di aprire delle loro aziende. è chiaro che abbiamo messo al centro della selezione il business plan, cioè la volontà di validare un progetto che sia sostenibile finanziariamente. E su questo abbiamo chiesto anche agli intermediari finanziari come Unico, come altre banche, di assistere finanziariamente a questa scelta politica e economica in modo che coloro che vogliono fare una start-up innovativa non siano da soli e possano avere al loro fianco gli intermediari finanziari e coloro che credono nel loro progetto. Come avviene in molte parti del mondo, dobbiamo creare un ecosistema positivo e favorevole a coloro che vogliono fare impresa, soprattutto se innovativa. È una partenza con risorse della regione per poi vedere il fabbisogno, qual è la reale richiesta di queste risorse. Una volta che è definito il fabbisogno lo rifinanziamo con il POR oppure con i soldi della regione. Grazie.